Il questione della provincia di Salerno ha emesso tre provvedimenti di divieto di accesso ad aree urbane nel comune di Salerno per sei mesi nei confronti di tre parcheggiatori abusivi operanti nell'area antistante allo stadio Arichi. Sempre nel quadro dell'attività di contrasto e prevenzione alle illegalità sono stati adottati tre provvedimenti di divieto di ritorno nel comune di Angri nei confronti di pregiudicati del napoletano, resisi responsabili di furti seriali di Apecarra nel Serenitano. Ed ancora due provvedimenti di avviso orale nei confronti di un individuo pregiudicato responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di una donna, anche questa pregiudicata individuata responsabile di furto all'interno della chiesa di San Valeriano nel comune di Agropoli.